Archiviata a gara 1 delle semifinali playoff, l'Invicta fa visita nel parquet di Sant'Agata per cercare il pass qualificazione in questa gara di ritorno. Gli uomini del coach Giuseppe Spena dopo aver vinto gara 1 per 83 a 59, in settimana hanno tenuto alta la concentrazione e lavorando sodo perché a Sant'Agata sarà una dura battaglia e che per affrontare questo tipo di partite bisogna lavorare per migliorare sempre di più. Sfida al vertice nel girone D del campionato di basket di promozione, dove la Cusn-Caltanissetta dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Salusport sarà di scena a Ragusa nel parquet dell'Olimpia. I cestisti nisseni dopo aver raggiunto il primo posto in classifica in coabitazione con i ragusani cercano l'allungo proprio sui padroni di casa, che dopo aver riposato la settimana scorsa vogliono ricominciare nella loro marcia in questo big match contro la Cusn. Basket, promozione, girone D, quarta giornata del terzo turno. Olimpia Ragusa Cusn, Salusport, la Fenice Priolo, riposa, nuova città di Gela.